Ciao bambini, vi va di fare con me un po' di ginnastica questa mattina? E la facciamo insieme alla mamma? Allora facciamo queste posizioni, ne faremo 4 e voi dovrete contare fino a 5 ogni posizione. Iniziamo con la prima. Questa è la posizione della farfalla e contiamo fino a 5 tenendo le gambe così. 1, 2, 3, 4 e 5. Poi facciamo la posizione del gatto che è questa. E teniamo la testa in giù e inalchiamo la schiena. Facciamo così. 1, 2, 3, 4 e 5. Poi facciamo un'altra posizione che è quella del cane a testa in giù. Guardate eh bimbi. E questa. E contiamo ancora fino a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bravi. E adesso facciamo la posizione della foca che è questa qua. E contiamo fino a 5. 1, 2, 3, 4, 5. E poi ci sediamo, ci sciogliamo le gambine. Fatta? Siete riusciti? Siete riusciti? Mi mando un bacio grande. Ciao. Ciao bimbi.